Ora dobbiamo occuparci delle altre fonti del diritto penale e chiederci se le fonti dell'Unione Europea sono idonee a produrre norme penali. Ora già, poi vedremo, leggeremo, già si capisce che la risposta è no, perché c'è il principio di legalità, nel senso che solo la legge, la legge dello Stato, può prevedere delle norme penali. E quindi dovrebbe dire, no, l'Unione Europea non può prevedere norme penali, punto. Tuttavia, nei trattati dell'Unione Europea vediamo qualcosa che, leggeremo, che comunque non cambia la questione che l'Unione Europea non può direttamente prevedere norme penali, ma può prevedere dei requisiti che debbano avere le norme penali degli Stati nazionali relativamente a certe materie specifiche. Requisiti che poi sono esplicitati in delle direttive. Allora, alla luce di questi trattati, dobbiamo un po' rivedere la questione che l'Unione Europea non può proporre norme penali, non può prevedere norme penali, e non le può prevedere, ma forse sarebbe meglio dire che l'Unione Europea non può prevedere direttamente delle norme penali, ma indirettamente può obbligare gli Stati membri, nel momento in cui si regifera in certe materie, a rispettare certi requisiti. Quindi, evidentemente in un'ottica di armonizzazione delle varie legislazioni dei vari Stati, perché sennò poi succede un po' di confusione se ognuno va completamente per una strada diversa rispetto agli altri. E poi, dopodiché, si parlerà della consuetudine, se può essere fonte del diritto penale. Allora, pagina 11. Le fonti dell'Unione Europea e la consuetudine. Dobbiamo ora occuparci del rapporto fra diritto penale e Unione Europea, ponendoci una fondamentale domanda. L'Unione Europea può, attraverso le sue fonti normative, prevedere direttamente norme penali? La risposta deve essere negativa per due motivi. 1. Per il nostro ordinamento, articolo 25 della Costituzione, comma 2, solo la legge può prevedere norme penali. Di conseguenza, solo lo Stato italiano può disporre in materia penale e non l'Unione Europea. 2. I trattati istitutivi dell'Unione Europea non prevedono che l'Unione possa produrre direttamente norme penali. Si potrebbe quindi chiudere il discorso sui rapporti fra Unione Europea e diritto penale, ma in realtà è necessario porci un'altra domanda su detti rapporti. Se è vero che l'Unione Europea non può emanare direttamente norme penali, può obbligare gli Stati membri a produrre su particolari oggetti? 3. La risposta deve essere positiva. L'Unione Europea ha questo potere che le ha attribuito dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Riportiamo il testo dell'articolo 83 di questo trattato e vediamo un po' che relativamente la parte che ci interessa. E questo è il Trattato di Stati Unione Europea e, come sapete, obbliga tutti gli Stati membri. Il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione trasnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni in tali reati o da una particolare necessità di combattere su base comuni. Quindi sta dicendo che se la cosa in fondo ci riguarda in un modo o nell'altro per certe situazioni, allora gli posso dire dei requisiti minimi che devono avere le norme penali dei singoli Stati. Dette sfere di criminalità sono le seguenti. Terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui rappresenta il paragrafo. La divisione non è in articoli, è in paragrafo. Esso delibera ad unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. Allorché il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace in una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni del settore in questione possono essere stabiliti tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo all'articolo 76. Quindi, in queste materie l'Unione europea, per me devi fare così, i requisiti minimi che deve avere l'autore sull'azione è questa. Certo, c'è tutta una procedura, ma questo vuol dire che l'Unione europea non è che proprio ne entra sulla normativa penale, no? C'è l'articolo del trattato. Come si vede, l'Unione europea non può produrre direttamente norme penali, ma può farli in via immediato attraverso lo strumento della direttiva, ovviamente nelle materie che abbiamo visto. La direttiva non si applica direttamente come i regolamenti, ma obbliga gli Stati membri alla sua applicazione. Vediamo cosa dispone in proposito l'articolo 288 del trattato del funzionamento dell'Unione europea. La direttiva vinca lo Stato membro e guerra rivolta. Per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma dei mezzi. Non è un regolamento che è direttamente efficace, è una direttiva. Ma il fatto che sia una direttiva non vuol dire che non debba essere poi recepita dai singoli Stati membri. Sono obbligati a farla. In altre parole, gli Stati membri dovranno adeguarsi diversamente, dovranno adeguarsi diversamente e rischieranno una procedura di infrazione. D'altro canto, per quanto riguarda l'Italia, proprio le norme penali devono essere in natura legislativa, non vi sarà altra strada che la legge per adeguarsi alla direttiva. In conclusione, l'Unione europea non ha un potere diretto di emanare norme penali, ma può indirettamente imporre agli Stati membri l'emanazione di norme penali. Con tutto quello che abbiamo detto prima. Ma il discorso non può chiudersi qui. Poniamoci un'altra domanda. Cosa succede se una norma penale è in contrasto col diritto dell'Unione? Prima di rispondere, sgombriamo il campo da un possibile equivoco. È possibile che le norme penali italiane contrastino con le norme penali dell'Unione? La risposta deve essere negativa, per il semplice fatto che, come abbiamo visto, l'Unione non può produrre direttamente norme penali. Allora, il conflitto ci può essere in un altro modo, come nel caso in cui una legge penale consideri illecito un comportamento che, secondo il diritto dell'Unione, è illecito. Il diritto dell'Unione, nelle materie di sua competenza, prevale su quello degli Stati membri e, in caso di contrasto, è il diritto dell'Unione che deve prevalere anche secondo la nostra Corte Costituzionale. In caso di conflitto, il giudice italiano dovrà quindi tener conto, a parte le ipotesi di rinvio pregiudiziare alla Corte di Giustizia Europea e di rinvio alla Corte Costituzionale, degli articoli 11 e 117 della Costituzione e quindi far prevalere la normativa dell'Unione. Ma come dovrà fare? Se il contrasto è fra la norma penale italiana e un regolamento dell'Unione e una direttiva dettagliata, dovrà disapplicare la normativa penale italiana. L'altra dottrina parla di neutralizzazione della norma penale italiana. Veniamo ora all'ultima fonte considerata, la Costituzione. Sapete la Costituzione? È una fonte del diritto. Comportamenti ripetuti nel tempo, con la convinzione che siano obbligatori, a un certo punto diventano anch'essi fonte del diritto. E quindi si vorrebbe dire, beh, perché no? In fondo è una fonte del diritto, ma è più no che sì. Vediamo. La Costituzione non è una fonte atto, ma è una fonte fatta, cioè non è scritta, si verifica coi comportamenti. Cioè è una fonte produttiva di norme che proviene da comportamenti, da fatti. La Costituzione esorge da un comportamento ripetuto nel tempo, ritenuto dalla collettività che lo tiene giuridicamente obbligatorio. Quindi, quello che vi ho detto prima. Gli elementi della Costituzione sono quindi il tempo e la convenzione che sia giuridicamente obbligatorio. Logicamente, si deve ritenere che il comportamento della collettività o del gruppo sia ripetuto così tante volte che poi nasca la convenzione che sia giuridicamente obbligatoria. Questo è un po' il cane che si morde la coda della Costituzione. Come si fa? Che dall'inizio questo comportamento ripetuto nel tempo sia direttamente obbligatorio? Evidentemente, questo comportamento, al mento delle volte che è ripetuto nel tempo, che sorge nella collettività l'idea, la convinzione che sia giuridicamente obbligatoria. Non credo che possano sorgere insieme la prima volta che si fa, no? La consuetudine non può dar vita a nuovi reati per la riserva di legge dell'articolo 25 della Costituzione. Quindi, questa è la risposta. La consuetudine non può essere fonte di norme penali. Ma non può nemmeno abrogare leggi che prevedono reati già esistenti, perché nella gerarchia delle fonti occupa l'ultimo gradino e non può certo contrastare con una legge. Il loro ruolo alla consuetudine è quindi molto limitato. A preo parentesi, si afferma, ma non senza contrasti, che potrebbe avere una valenza interpretativa del progetto penale. Ma è bene chiarire che quando si parla di consuetudine ci si riferisce alla consuetudine fonte del diritto e non alla consuetudine come fatto sociale in base al quale è consuetudine che si tenga un certo comportamento. Si fa spesso l'esempio del reato di atti osceni il cui contenuto cambia nel tempo in relazione all'evoluzione della società. Ad esempio, in passato non era ammesso che le donne potessero andare a mare in bikini, cioè ci voleva per forza il costume intero, andiamo negli anni 60. Ma ora è consuetudine che ciò accada e quindi non commette il reato di atti osceni una donna che vada a mare in bikini o in topless. Altri esempi se ne potrebbero fare, per esempio la consuetudine di sparare fuochi artificiali all'ultimo dell'anno oppure di scambiarsi di elegani a Natale. Tutte queste consuetudine non sono certo la consuetudine a fonte del diritto ma sono dei comportamenti socialmente accettati che possono avere influenza sul precetto penale specificandolo o interpretandolo. E con questo abbiamo visto anche questa questione. Adesso passeremo ai corollari del principio di legalità, cioè tassatività e determinatezza della norma penale.